Ola! Vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi! Iscrivetevi! Grazie per la visione! 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 Questo è tutto il lungalgire di domani, ma lo facciamo oggi con la luce, in senso contrario. Grazie per la visione! E lì dietro sono le rovine del teatro romano, noi abbiamo già visitato in un'altra occasione, perché oggi non ci andiamo. Se vi interessa venite a Verona. Questa è il ponte pietra, il ponte vecchio. Grazie per la visione! La basilica di Santa Anastasia. E la mattonella può smizzare con me, è formaggio. Dovrebbe essere formaggio. Dovrebbe essere formaggio. E la mattonella può smizzare con me, è formaggio. E la mattonella può smizzare con me, è formaggio. La mattonella può smizzare con me, è formaggio. Questo è tutto il loro e, è formaggio. E la mattonella può smizzare con me. E la mattonella può smizzare con me, è formaggio. E la mattonella può smizzare con me. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.